Perla Wattiero e Mirko Brunetti torneranno insieme al GF? Parla ex Temptation Benedetta Pascali ha rivelato cosa pensa di un eventuale ritorno di fiamma per l'ex coppia al grande fratello Oggi una delle protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island ha rilasciato un'interessante intervista a Lolo.magazine E in questa occasione le è stato chiesto se pensa che Perla Wattiero e Mirko Brunetti possano tornare insieme nel breve termine, visto che adesso vivono insieme nella casa più spiata dagli italiani e hanno a disposizione tanto tempo per chiarire Quest'ultima ha dapprima dichiarato di aver visto Perla ancora molto presa dal suo ex, e successivamente ha però fatto capire di vedere altresì benissimo insieme Mirko e la sua attuale fidanzata Perla la vedo ancora presa. Secondo me però Mirko e Greta sono bellissimi insieme, li adoro Quest'ultima ha inoltre confessato di aver passato proprio con Mirko e Greta un weekend insieme la scorsa estate e sono stati benissimo Per la Wattiero e il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani, l'ex di Temptation Island dice la sua Successivamente è stato chiesto all'ex tentatrice dell'ultima edizione del reality show delle tentazioni cosa pensa dell'ingresso a sorpresa di Perla nella casa del grande fratello E Benedetta Pascali ha quindi rivelato a Lollo.magazin di credere che il reality show condotto da Alfonso Signorini rappresenti comunque una grande opportunità impossibile da rinunciare Penso che il GF sia un'altra bellissima esperienza, sicuramente molto ambita, ed un'occasione da non perdere, quindi Si fa inoltre presente che Perla, la quale ha espresso la sua opinione su Mirko e Greta, è già riuscita in pochissimi giorni ad entrare nel cuore degli spettatori del programma, visto che è diventata ben presto una delle concorrenti preferite, almeno in base ai sondaggi circolati online fino a questo momento L'ex tentatrice di Temptation Island non corteggerebbe nessuno dei tronisti di Uomini e Donne Il redatore di Lollo.magazin ha poi chiesto a Benedetta Pascali se corteggerebbe mai uno dei due tronisti del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, visto che è single E la giovane ex tentatrice del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha subito dichiarato che pur trovando molto carini entrambi i tronisti non li corteggerebbe mai, preferendo invece sedersi a sua volta sul trono Loro sono molto carini, ma non scenderei in questo momento. Mi sento più tronista, forse sono un po' esigente, però mai dire mai Le è stato poi chiesto di cosa si occupa al momento. La ragazza ha subito riposto di essere molto impegnata sia con la sua linea di bikini che sulla sua attività sui social. Tornerà presto pure in tv?